Il ministro dell'interno Matteo Piantedosi all'Aquila per inaugurare la centrale unica di risposta, CUR del 112 Abruzzo, collocata nella sede dell'Agenzia di protezione civile regionale nel capoluogo. Un servizio importante, quello del 112, che ha permesso di avere 40 operatori di Abruzzo Progetti opportunatamente formati, che si avvicenderanno 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno nella gestione della sala. Operatori che già stanno facendo rodaggio presso altre centrali operative, anche a Roma. Il 12 marzo si partirà con Chieti e Pescara. Il 26 marzo il servizio partirà invece con Teramo e tre distretti dell'Aquila. Più moderna, più efficiente, perché significa indirizzare le strutture operative ad una gestione più efficiente, cioè mirata agli interventi realmente concreti che insomma saranno proposti dai cittadini. Una modernizzazione del sistema complessivo con la digitalizzazione, quindi complimenti all'Abruzzo che ci arriva in maniera importante. I nostri operatori sono 40, anzi ringrazio Abruzzo Progetti, la società in house della regione, perché è personale che abbiamo ovviamente selezionato con loro. Sono 40, saranno divisi in tre turni, per cui sostanzialmente avremo circa nove operatori al giorno, ovviamente su tre turni, quindi H24.